Ma io penso che la gara di andata sia stata decisa da una ripartenza nel primo tempo dove noi nel primo tempo probabilmente con l'occasione di Marusic e Correa avremmo potuto pareggiare ampiamente, il secondo tempo è stato fatto meglio del primo, abbiamo avuto un paio di situazione, una con Felipe Ramos interessante, però sappiamo che domani dovremo fare due gol per passare, faremo una partita coraggiosa perché per giocare in uno stadio del genere ci vorrà molta personalità. Per quanto riguarda i convocati siamo in 19, abbiamo tre portieri, abbiamo aggregato Zitelli, il ragazzo della primavera, Parolo e Luis Alberto stamattina si sono voluti allenare con la squadra, sono andati tutti e due discretamente, Parolo è stato convocato, valuteremo domani perché la caviglia è migliorata molto, Milinkovic ha fatto tre allenamenti con la squadra quindi avrei potuto già convocarlo per Genova e non è stato fatto e poi insomma domani abbiamo un risveglio muscolare e poi si deciderà, decideremo la formazione. Ma sai per quanto riguarda gli infortuni, questa emergenza che si è venuta a creare ne abbiamo valutata, sicuramente lo sforzo fisico e mentale dei 120 minuti col Milan è da tenere presente, è da tenere presente che abbiamo fatto tre partite in sei giorni, cosa che non era quasi mai capitata, purtroppo c'è stata i 120 minuti, c'è stata in concomitanza con la partita dei Rebbi quindi abbiamo dovuto giocare di giovedì, sicuramente ha influito, abbiamo avuto qualche infortunio muscolare, qualche infortunio come parola e lei va dovuto a colpi subiti, chiaramente lo dice la parola stessa, siamo in emergenza però a volte dalle emergenze si tirano fuori cose interessanti, mi spiace già per domenica perché in emergenza secondo me avevamo schierato una squadra che aveva giocato molto bene con grande personalità Genova però c'è il grande rammarico per il risultato.